Era riuscito a comprare una Ferrari dopo che la sognava da una vita, forse per testare subito il bolide un giovane britannico ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato, distruggendo l'auto. La Ferrari era stata ritirata solo pochi minuti prima e l'incidente è avvenuto a 3 km dalla concessionaria. Protagonista della storia è un cittadino inglese del Derby Shire che fortunatamente non ha riportato lesioni nell'impatto e nessun altro è rimasto coinvolto. L'unica pecca è che dovrà rimettere mano al portafogli per l'ingente danni subiti dal bolide.